Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlando di Electronic Arts. Il publisher ha infatti appena annunciato il prolungamento della beta di Battlefield Hardline fino al 26 di giugno. La fase di prova doveva concludersi oggi, ma Electronic Arts ha deciso di lasciare più tempo ai giocatori per valutare il prodotto in questa versione di prova che concede una sola mappa e due modalità multiplayer. Ricordiamo il gioco completo comprenderà anche una campagna singolo giocatore, altre due modalità e un numero ancora imprecisato di mappe ed è in uscita questo autunno. Passando invece a Sony, la casa ha iniziato la distribuzione in Italia del nuovo modello di PlayStation Vita, noto come PCH2000. Circa il 20% più leggero e il 15% più sottile. Tra l'altro lo schermo OLED della prima versione è stato sostituito con uno schermo LCD ad alta definizione. Permangono invece quelle che sono le caratteristiche che hanno reso nota la portatile, ossia il touchscreen posteriore e anche la possibilità di riprodurre in remoto i giochi PlayStation 4. Novità inaspettate da Capcom. Durante una recente riunione dell'esecutivo si è deciso di abolire la Takeover Defense, ossia quella serie di provvedimenti che impediva ad investitori esterni di acquistare un numero eccessivo di azioni della società. Questo significa che oggi chiunque potrebbe acquistare Capcom. Naturalmente non sappiamo che risvolti questa cosa potrebbe avere in futuro ma vi terremo aggiornati. E torniamo adesso in Italia. Il team Ovosonico ha infatti annunciato tramite Twitter il mese di uscita di Murasaki Baby, il loro particolarissimo progetto in esclusiva per PlayStation Vita. Il gioco uscirà il mese di settembre, non avrà una versione retail e per il momento non ci sono assolutamente commenti relativi ad eventuali porting PlayStation 3 e PlayStation 4. Del resto ricordiamo che il gioco fa un utilizzo molto particolare di entrambi i touchscreen anteriore e posteriore della portatile Sony. Conseguentemente per un porting bisognerebbe intervenire in maniera abbastanza pesante sul gameplay quindi non è detto che nemmeno questo arrivi mai. Rimaniamo naturalmente in attesa di scoprire il prezzo che ancora non è stato annunciato e il giorno del mese selezionato per l'uscita. Arriva invece da Hideo Baba la notizia che i fan non dovranno attendere moltissimo per l'uscita di Tales of Zestiria anche in occidente. Ricordiamo naturalmente il titolo uscirà per primo in Giappone entro la fine dell'anno e sembra proprio che non ci sarà moltissimo ad aspettare per vederlo anche dalle nostre parti quindi buone notizie per tutti i fan della saga. Mostrato durante le conferenze delle 3 2014 Assassin's Creed Unity ha davvero convinto non soltanto per quanto riguarda il gameplay ma anche per il lato grafico non solo di qualità nettamente superiore rispetto a quello dell'ultimo capitolo della saga ossia Black Flag ma anche per la grandissima quantità di NPC a schermo davvero senza precedenti per la serie. Bruno Santandré uno dei producer del gioco ha recentemente confermato che le mire degli sviluppatori sono 1080p e 60 frame per secondo su entrambe le piattaforme next gen. Sembra proprio che all'attuale condizione delle console questo obiettivo sia abbastanza facilmente raggiungibile naturalmente aspettiamo le conferme ufficiali. E passiamo adesso ad Activision che ha annunciato l'assenza dalle versioni 3DS e Wii U di Transformers Rise of the Dark Spark della modalità Escalation ossia la modalità cooperativa del gioco. Se sulla portatile questo stupisce fino ad un certo punto su Wii U stupisce invece molto di più dato che la versione sembrava identica a quella console. E chiudiamo come sempre l'edizione di oggi con le nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a CD Project. Giravano infatti voci che le versioni console di The Witcher 3 attualmente in sviluppo fossero molto downgradate graficamente rispetto alla versione PC. I sviluppatori sono intervenuti smentendo completamente questa affermazione e hanno annunciato il fatto che su Xbox One e PlayStation 4 si avrà un'esperienza identica rispetto a quella su PC giocato con impostazioni high quindi alte. sembrerebbe un bellissimo traguardo ricordiamo tra l'altro che attualmente il gioco gira a 900p ma la mira degli sviluppatori è arrivare a 1080p. Su PlayStation 4 affermano che il compito sarà leggermente più semplice ma grazie ai nuovi kit di sviluppo di Xbox One recentemente arrivati sembra proprio che riusciranno a farcela anche sulla console Microsoft. E il flop di questa puntata va invece a Rockstar Games. La casa infatti per l'ennesima volta ha annunciato un ritardo della modalità rapine di GTA Online. Ancora non c'è un periodo di uscita, la casa continua a scusarsi e a noi viene il dubbio che ormai l'arrivo di questa modalità potrebbe coincidere con l'uscita delle versioni next gen del titolo ossia PC, PlayStation 4 e Xbox One. Speriamo davvero che prima o poi arrivi. e con questo anche per l'edizione di oggi è tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento a settimana prossima, a martedì. Ciao!